Bello! Guarda Luigi! La tappa sempre viena! Guarda la tappa! La tappa con la pazza! Mini giocattolo? Grazie a avere i punti in una serie di 5 mini giochi! Siiii! Eccola! Scontro! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Ah, è un'arena! Stile Colosseo! Siamo piaciuti! Porca madre! Come funziona? Ho capito! Quindi ci ammazziamo furia! Sono bestemmie e morti! In avanti si accelera! Le batteri con sangue le tira a letta! Io premuto ok! Io sto aspettando perché devo cercare di capire come metterlo prima! Eccolo! Ah, ok! Vedi! Poi faccio affalata più troppo! In avanti! Per tutte le cose vai in avanti! Cioè, devi... Eh, no, no, no! Ho capito, dai! Può essere che ho capito! Ok, ho capito! Ho capito! Figo che lo hai! Ti faccio farlo far stare l'alentino! Eh, quello è utile! Ma lo fa uno! Non capisci niente! Maledetti! Fuori le balle! No! Si fuori le balle! No! No! Vario! Fuori le balle! Fuori la cazzo! No! Fuori Luigi! Ma Luigi va uguale! Fuori la balle! non c'è il padre non ho ahahah l'epoca l'epoca per me quando gli ho dato 3 quant'è? 5 secondi di vista dato burger l'italiano simbarella l'unico un buco un buco un buon città voglio farlo ma io posso vedere c'è bene quando inizia a vivare a bello solo solo che non ho capito ma ah pure cadellato fuori eh certo eh io c'ho fatto che sco' di vestiti fuori e faccio eh questa è questa vabbè no mi sono detto non vai Rosalinda non mi ha detto che sappia cucinare perché effetti via 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 l'accordo è un passaggio la via via c'è il problema è il decarlo di una volta la tampa è il vantoria successive io credo che roma l'idea per me la parola la parola la parola la parola abbiamo perduto abbiamo un grande progetto la parola la bella si inventa ma non ha fatto dire la prima volta però una simbacca tesiore la barba ha detto vantaggio sarà già vero bucate ragazzi però pubblica se un po' pubblica muovo orca bella quando l'ultimo scopo con due ahahahahahahahahahahahahahahahah aiuto io la vedo male ma proprio male ma non mangiare aiuto ma la sola lo fermate per favore ci sto provando ingegno scusa come fate a correre più veloce voi perchè corriete più veloce ahahah la merda mi hai ucciso roma roma il volo a il roma il terreno l'alpha qualcuno oltre domani che mi ha posto regalo al sarazzo posto del mio due salarmine in gioco bohmi allora il valore la Ma qua è Luigi! Stava Luigi scusate Iiii! Ciao! Ciao! Ciao, Dramberde! Sai, dentro non lo fa la trivista! Ciao, Dramberde! Svolete, buonga! Ma dietro, porca smaragnata! Aiuto, aiuto, aiuto! Nooo! Aiuto! Sono velocissimi! Sono velocissimi! Mi ha intracciato! Mi ha intracciato! Mi ha intracciato lì! No, 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 si arriva a Tudio! Non è andata così male! Nooo! Guarda la testa! Guarda la testa! Cioè, magari non so farlo! Ma come lo fai il ciclismo? Ma questa... C'è il giallo mio campionico! Che giallo mio campionico! Ma non lo riesco a farlo! Dai! Sì, sì, io sì, eh! Non riesco a farlo! Ma non lo abbiamo fatto, dai, prego! 3...2...1...1... Via! Ma non lo ha fatto! Attenzione, Luigi! Attenzione, Luigi! O per Dio ma Luigi! O per Dio ma Luigi! Bravo! Pronti a evitare i porti? Ultima... Ultima! Ultima! Via! Ma com'è una volta che parte... Ma cosa abbastanza successivo? No! No, no! Ora faccio vedere i porti... Eh, se la fa con un già andato. Ah, però il potere... Ma quei ci puoi spiegare... Puoi spiegare le persone? Esatto! Puoi spiegare le persone? le persone ma che merda ma io ho perso allora c'è un problema che sono tanti ma tenzone ma tenzone la nata è più più ci ciò ma più baciata tenzone cerca di fare il mega frutto e mi serve per vincere esatto più punti prende vabbè ma la sua è più magra prendere sempre questo non ci fermi vado infatti c'è nessuno che la spinge occupo che gli dà una foto oh porca vabbè erano troppi l'abbiamo fatto la game bank quanti cacchio di punti ha preso mamma mia attenzione secondo me è l'ultimissimo però è l'ultimo ho fatto punti eh eh lo sapevo terzo maledizione o due maledificato di furia guardava di punti messo di un cento di metri c'è miseria mannaggia dai rolling gamers da questo delirio di mario pasta stai calmo bisogna dire che bisogna polliciare polliciare poi mettere a iscriversi al canale eh no con il commentare commentare io ando fatta fatica a capirlo l'altra volta clicca poi commentare clicca clicca qui sul canale esatto ok se siete iscritti mettete la 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 manellina la manellina ora vuoi finire su me no volevo volevo dire a Todd che non gliela do arrivederci ciao ciao ciao